Guida all'apprendimento Full Immersion Scoprite come accelerare l'apprendimento e acquisire scioltezza in qualsiasi materia. Come si impara? Se siete come la media delle persone, potete iscrivervi a un corso o comprare un libro e prendere appunti. Ma affidarsi a una o due fonti è il modo migliore per imparare. Un'alternativa è quella dell'apprendimento Full Immersion. Questo approccio consiste nell'aggiungere il maggior numero possibile di risorse didattiche diverse e nell'assumere un ruolo attivo nell'apprendimento. L'apprendimento Full Immersion si compone di tre parti, imparare il vocabolario, costruire una tribù e applicare le proprie conoscenze. Dopo aver letto e messo in pratica questo approccio, sarete pronti ad affrontare qualsiasi argomento di vostro interesse. Imparare il vocabolario Il primo obiettivo quando si inizia a imparare qualcosa di nuovo è quello di familiarizzare con il vocabolario. Inoltre, la comprensione dei concetti, delle idee fondamentali, delle figure chiave e della storia vi permetterà di apprezzare maggiormente ciò che state imparando. Vi permetterà anche di formulare nuove intuizioni e di porre domande che vanno al di là del livello superficiale. Uno dei modi migliori per acquisire questo vocabolario è avvicinarsi a più risorse contemporaneamente. Per esempio, potreste iscrivervi a un corso tecnico sull'apprendimento automatico e allo stesso tempo guardare Westward e ascoltare un podcast che intervista esperti di apprendimento automatico. Aggiungendo più risorse inizierete a notare idee e frasi comuni, presentate in formati diversi. Ecco alcune risorse che possono essere utili quando si è agli inizi. Libri Non limitatevi alla sola saggistica. Alcuni dei libri più stimolanti ed educativi possono essere tratti dalla narrativa. Neil Stevenson è un rinomato autore di narrativa che arricchisce i suoi libri con tonnellate di contenuti educativi. Dedicate un po' di tempo anche alla lettura di biografie di personaggi chiave alla storia del settore che state imparando. Questo vi darà un contesto su come è nato e dove sta andando. Corsi I corsi online o di persona sono un ottimo modo per familiarizzare con il vocabolario in un contesto più strutturato. Offrono anche l'opportunità di conoscere altri studenti che stanno facendo lo stesso percorso di apprendimento. Esistono numerose massiveli open online classroom, alcune delle quali sono gratuite e altre a pagamento. Corsera, edX e Udemy offrono tutti una serie di corsi diversi che probabilmente copriranno l'argomento che vi interessa. Media, oltre ai corsi, potete trovare anche contenuti brevi o lunghi sotto forma di podcast, video e articoli che vi aiuteranno a completare il vostro apprendimento. Come per i libri, cercate di espandere il vostro campo d'azione al di là della tecnica. Se state imparando la biologia, potrebbe essere interessante guardare film tv di fantascienza che affrontano i dilemmi etici associati alla nostra crescente padronanza della biologia. Anche i documentari sono ottimi per avere una breve panoramica di un campo e per familiarizzare con i migliori esperti. Inoltre, assicuratevi di cercare su YouTube, perché è molto probabile che qualcuno abbia creato un canale per aiutarvi a imparare. Pratica e test, uno dei modi migliori per aumentare il vostro vocabolario e la vostra comprensione è la pratica e il test. Questo può essere semplice come la creazione di flashcard per i termini o può comportare problemi più pratici legati al vostro campo. Il richiamo attivo si è dimostrato una delle tecniche migliori per consolidare l'apprendimento, quindi assicuratevi di approfittarne. Costruire una tribù Una volta che si ritiene di avere una buona padronanza del vocabolario, è il momento di incontrare delle persone. I tre gruppi di persone che dovreste cercare sono i mentori, i pari e i mentee. Costruire una tribù di apprendimento composta da questi tre gruppi vi aiuterà ad affrontare le lacune nelle vostre conoscenze, ricevendo allo stesso tempo guida e sostegno. I mentori sono persone che hanno raggiunto un certo livello di padronanza o di esperienza nel campo che vi interessa. Possono aiutarvi a identificare le aree di debolezza, a rispondere a domande specifiche e a fornire pietre miliari verso cui tendere. I pari sono altri studenti che hanno un livello di competenza simile. Il vantaggio di avere un pari è che spesso incontrerete sfide di apprendimento simili, dando a ciascuno di voi l'opportunità di insegnare e imparare l'uno dall'altro. I mentori sono persone che hanno appena iniziato a studiare. Richard Feynman, fisico premio Nobel, era noto per aver detto, se non puoi spiegare qualcosa in termini semplici, non l'hai capita. Asterisco i mentee rappresentano quindi un'opportunità per verificare quanto effettivamente si capisce qualcosa. Ecco alcune aree in cui potete trovare queste persone. Comunità online, Slack e Discord sono spesso utilizzati da comunità di nicchia che vogliono creare una comunità più intima. Anche se le comunità online di Facebook sono numerose, non sono altrettanto versatili e coinvolgenti delle prime due. Altre opzioni includono Twitter, che spesso ha le sue comunità secondarie, Quora, dove è possibile porre e rispondere a domande, e Medium, dove è possibile individuare esperti che scrivono sui contenuti a cui si è interessati. Comunità offline, a seconda di ciò che state imparando e del luogo in cui vivete, è molto probabile che esista una sorta di comunità offline piena di studenti altrettanto motivati. Date un'occhiata a siti web come Meetup, la funzione Scopri eventi di Facebook o Eventbrite. Mentore a pagamento Un modo più efficace per trovare un mentore è quello di pagarlo. I mentori informali potrebbero non avere la possibilità di incontrarsi regolarmente con voi o avere un background di mentoring. I mentori a pagamento, invece, avranno molta esperienza di lavoro con persone del vostro livello di competenza e potranno incontrarvi alle vostre condizioni. A seconda della materia, potete trovare siti web specifici per i tutor, ad esempio a Kenz, un sito web per i tutor di programmazione, o siti web più generali come SuperProf, che offrono un'ampia gamma di insegnanti e tutor. Applicare le conoscenze Una volta imparato il vocabolario e formata la vostra tribù di apprendimento, è il momento di applicare le vostre conoscenze. Questa è una fase importante del vostro percorso di apprendimento, perché vi permette di consolidare le vostre conoscenze e di ricevere un feedback dagli altri. Sia che scegliate di applicare le vostre conoscenze attraverso la scrittura, la programmazione o un altro modo di esprimerle, la chiave è intrecciare il vostro apprendimento in un modo che vi faccia sentire autentici. Ci sono molti modi per applicare le vostre conoscenze, ma tre sono le aree generali. Esperienze L'applicazione delle vostre conoscenze nel contesto di esperienze potrebbe consistere nel tenere un discorso per condividere le vostre conoscenze con un pubblico più ampio, oppure nell'organizzare una cena di gruppo con l'intenzione di discutere in modo approfondito del vostro argomento. Mettere in mostra le proprie conoscenze creando esperienze è anche un ottimo modo per identificare mentori, pari e allievi. Prodotti Creare un prodotto, gratuito o a pagamento, è un modo fantastico per consolidare le proprie conoscenze. I prodotti possono essere applicazioni mobili, siti web, prodotti fisici o persino un corso online. Un esempio che utilizza un argomento astratto come l'etica potrebbe essere un'applicazione mobile che aiuta gli utenti a raccogliere consigli su problemi etici nella loro vita. All'interno dell'app potreste scrivere articoli che spieghino vari quadri etici e che servano a educare gli utenti ad aiutarli a prendere decisioni moralmente consapevoli. Media I canali di distribuzione dei contenuti, come Medium, LinkedIn, Quora e YouTube, rappresentano un ottimo modo per condividere le vostre conoscenze con un pubblico più vasto. Potreste iniziare a creare contenuti e guide per aiutare gli studenti che hanno appena iniziato o semplicemente per rispondere alle domande di altre persone. Questo vi permetterà di chiarire il vostro pensiero e di ottenere un feedback. Dopo aver seguito questo schema, non resta che salire la scala delle competenze nel vostro campo. A un certo punto del vostro percorso di apprendimento, potreste anche trarre beneficio dall'apprendimento di un altro campo complementare che vi aiuti ad approfondire e a generare nuove intuizioni. Ad esempio, se avete trascorso gli ultimi sei mesi imparando a programmare, potreste trarre beneficio dall'apprendimento del prodotto per migliorare i prodotti che costruite. Grazie a tutti. Grazie a tutti.